Il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza hanno incontrato questo pomeriggio a Palazzo San Giacomo una rappresentanza delle famiglie di Via Morgan e Via Solimena che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa di problemi di dissesto e cedimenti del manto stradale. Con loro anche i titolari di alcune attività commerciali. All'incontro hanno preso parte la consigliera comunale Maria Grazia Vitelli, il direttore di ABC Napoli Sergio De Marco ed i tecnici della società. Grazie. 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 Grazie.